65 produttori toscani e 39 buyer da 19 paesi si incontreranno a Firenze il 23 e il 24 ottobre per stringere ai nuovi accordi commerciali in occasione della sesta edizione di ByFood, l'evento internazionale dedicato alle produzioni enogastronomiche toscane certificate. La manifestazione è promossa da Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana. È un'edizione che consente di presentare i prodotti della Toscana e di presentare lo stile di vita con cui la produzione agricola consente di vivere la Toscana. Contemporaneamente forte spinta di esternalizzazione, conseguentemente di esportazioni dei prodotti che vengono dalla Toscana a dimostrazione di una qualità che poi si esprime in un'attrattività in tutto il mondo. Davvero confidiamo che sia anche quest'anno un evento che porta grandi benefici alle nostre imprese perché poi la finalità deve essere questa, quella di riuscire a mettere in contatto le nostre imprese con coloro che possono acquistare e quindi promuovere i nostri prodotti in tutto il mondo. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto ottimi risultati, gran parte dei contatti si sono trasformati in contratti. Un evento che ogni anno cresce e si rinnova per portare all'attenzione dei mercati mondiali la DOP Economy Toscana e per presentare l'evoluzione della produzione che, come si evince dalle anticipazioni sul rapporto Ismea, vira sempre più verso il biologico e la sostenibilità. Si rileva infatti che la superficie coltivata a bio sale al 37,5%, un valore molto superiore rispetto alla media italiana che sfiora il 20%. ByFood è anche termometro e bussola del mercato internazionale e delle esportazioni. Ormai è un evento consolidato che ci porta a tutti grandi soddisfazioni e dà valore all'agroalimentare toscano che dà una grande forza economica ed immagine alla Toscana nel mondo. 38 mila aziende, 4 miliardi di prodotti agroalimentari, una grande spinta all'estero, quindi 2,1 miliardi dell'export nei primi sei mesi, quindi quasi il 20% rispetto al stesso periodo dell'anno scorso. E poi abbiamo la prima regione in Italia per DOP e IGP con 90 aziende. Quindi diciamo che questi numeri ci danno grande soddisfazione, però non possiamo stare fermi, ci devono servire da stimolo per fare meglio. Si rafforza così il coinvolgimento dei paesi asiatici con il Giappone, la Corea del Sud e Singapore e la forte crescita di Taiwan. Bene anche il mercato europeo a partire da paesi nordici, anche se la parte del leone la fanno Stati Uniti e Germania, che insieme raggiungono il 60% del valore delle esportazioni delle denominazioni toscane. Ma Bay Food non è solo un'occasione per stringere accordi commerciali e anche approfondimento sul mondo delle produzioni di qualità certificate dei consorsi. Giovedì 24 ottobre a Palazzo Bastoggi di Firenze si svolgerà il convegno alla Toscana del Cibo, un viaggio del gusto tra prodotti, persone e territori, con particolare attenzione alle sempre più forti correlazioni con il mercato turistico e alla capacità di attrazione della destinazione toscana. C'è tantissimo interesse per l'enogastronomia toscana, quindi sia dai nostri mercati tradizionali, che sono Nord Europa e Stati Uniti, ma sia anche dai nuovi mercati, attenzione per l'enogastronomia e anche per prodotti delle produzioni non solo legate al vino, ma anche proprio al cibo, come i formaggi, assumono sempre di più la caratteristica di diventare esperienze. Questa esperienza di visita si traduce poi in vendita diretta perché è da traino per l'internazionalizzazione dei prodotti. Per la stampa di settore anche straniera sono previste due masterclass di approfondimento e un press tour realizzato in collaborazione per la prima volta con Agrietour, che quest'anno interesserà l'aretino sulle tracce di Michelangelo e Vasari.